Allora, la nostra giuria di qualità di questa settimana, Rendi? Ah, partiamo subito con... Yes! Ok, allora abbiamo Emiliano Caponi, prendendo... Emiliano, prima volevi dire a proposito del video che abbiamo visto. Ah, molto buonasera a tutti quanti. No, volevo solamente far presente poi una cosa che ha puntualizzato mio padre, che appunto io faccio la parte, la trasposizione del video di lui quando aveva 20 anni, ecco. Solamente qui, quando all'epoca poi si faceva chiamare Agaton, ancora all'inizio della sua carriera. Tutto qui. Grazie. Riconoscibilissimo! E poi, Rendi? Poi abbiamo Giovanna D'Urso, buonasera. Alex Parravano, buonasera. Fabio Nero, laggiù. Luisa Chillemi. Questa è la nostra giuria. E allora, via... La vogliamo far partire, la sigla? Chiamiamola sigla? Sigla! Sigla! Grazie a tutti!